Ecco a voi la famiglia Qualunquissa, madre, padre e figlio. E come tutti usano prodotti di plastica o contenenti microplastiche. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Wow, che giornata fortunata! Grazie papà, me lo mangio tutto! Ah, questo è troppo! E' tutto da rifare! Ancora microplastiche! Nooo, no, no, ecco finalmente! Speriamo che tutti scelgano questi prodotti! Prodotto naturale, senza microplastiche! Bene! Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!